generale marasco 60 anni di manfredonia professione guardia ecologica trascorre le sue giornate a denunciare tutto quello che a manfredonia non funziona amici di facebook il comandante marasco che vi parla stiamo facendo un'indagine affinché la magistratura le autorità devono intervenire guardate il fuoco le fiamme dell'apocalisse l'ultimo capitolo della bibbia ecco avete rovinato l'italia politici vergognatevi andate via si presenta reality per dare voce alle sue denunce guardate guardate che cosa abbiamo trovato su questa strada provinciale 70 e la battuglia di servizio guarda madonna mia guardate guardate è mai possibile è mai possibile che le autorità non nessuno fa niente rispettore è rallente guardate guardate quanti cessi madonna mia madonna allora cosa dire amici facebook a parte i rifiuti ma nella mia vita non ho mai visto tanti cessi messi a bordo della strada provinciale a voi i commenti e condividete perché è uno degli ultimi cessi